Andreotti era un personaggio straordinariamente complesso e bellissimo da raccontare. Tu stai prendendo un libro su di lui e penso che ti sia accorto quando lui sia stato grande. Andreotti era stranissimo, mi chiamava la signorina Enea e mi diceva a tempo che il Presidente la vuole vedere come ripartivano alle 6. All'esempio, mi chiamavano 4. Arrivavo io da 6 un po' di dormimenti, lo trovavo in un'estanza della camera e lo leggevo la bagaggia preso un quarto e un tanto di quelli stizzi che soffriva tu per 18 mal di testa di cuore superò con l'intervento di riuscito. E allora parlavamo e si parlavano di quello del velo e si dice cosa fa, noi tentavano di entrare in res, come si può dire, per dire che cosa dobbiamo fare. Poi passare in tecnici e adesso devo fare un appuntamento, ma noi ritenevano domani che ci diciamo, improvvisiamo. Va bene? Improvvisiamo. Soprattutto per il provvisatore, soprattutto per il provvisatore all'intervento, perché io avevo il coraggio di farvi passare le trevolate del progetto. Il sindaco di Senze, il presidente Anderotti, protesta proprio nella città di Senze, che mai e mai avrebbe riservato a me un trattamento del genere, accogliendolo a peccati. La nostra città è civile, democratica e accoglie tutti con benevolezza. Mi ascoltò, sindaco, signor sindaco, ma lei quant'è mia? 23? Inizio. Quando mi bevano i piedi, lei non è ancora nato. Non lasciate vedere niente. Tutto, beveva tutta, tutto. Tutto.